compagni eroditori giocate anche voi con il jet frisbee tastabile crack crack a tree compagni eroditrici che bello che gioca mi piace come vola ma dove va a cascar che bello il frisbee che lancio da campione lei non la capterà ma io lo prendo al valo con gran facilità partecipa anche tu alla fantastica operazione a premis granocchi e gioca mandaci 15 in carti e il jet frisbee tastabile sarà tuo ciao dolci e croccanti giocorie biancorì motta